La piazza, anche se è un'ora complessa, la gente probabilmente si sta dirigendo verso la cena. Speriamo che dalla piazza qualcuno entri perché il tema è particolare, molto interessante. Parliamo di api, lo facciamo con Andrea Rosani di Melixa SRL, socio fondatore. Mettiamo le api in comune, parliamo quindi delle api e del rapporto che hanno con la città in questo caso. Purtroppo temo che stiano diminuendo, ma Andrea ci racconterà meglio il concetto di api come indicatore dello stato di salute ambientale delle città. Grazie mille, grazie per chi ci sta seguendo in streaming, tra cui dovrebbe essersi anche la mia famiglia che saluto. Io sono Andrea Rosani di Melixa e il titolo dell'intervento che vi presento è Mettiamo le api in comune. È un titolo un po' provocatorio, se vogliamo, perché avvicina un po' un qualcosa che non siamo abituati più a incontrare all'interno dei nostri ambiti urbani, le api, a un ambito invece che noi frequentiamo quotidianamente. E allora, mettere le api in comune potrebbe essere un qualcosa che mette in difficoltà la nostra normale vita quotidiana all'interno delle città? Mettere le api in comune però non vuol dire soltanto questo, vuol dire anche poter condividere grazie a tecnologie opportune i dati raccolti all'interno del proprio apiario con coloro che ci stanno attorno. E adesso piano piano vi guido all'interno di questo intervento. Non trasmette Ok Grazie Ok, perfetto, scusa, grazie mille Un mondo senza api. Noi siamo abituati a conoscere le api per quelli che sono i loro prodotti, in particolare il miele che è consumato da moltissime persone. Quello che forse siamo venuti a sapere ultimamente è che le api rispetto al passato sono in declino. Non è una notizia che certamente vi darò io, l'avete potuta prendere dai media nazionali e internazionali. Qui riporto in particolare un intervento sul Times, a World Without Bees, perché ha una rilevanza questa problematica dell'ape a livello mondiale. Rilevanza che ci può riguardare per il miele forse o forse anche per qualcos'altro. L'ape è soltanto prodotti come la cera, la propoli e il miele oppure è un qualcosa che fa parte della nostra esistenza più nel profondo. Se vogliamo continuare sul discorso della provocazione vi faccio vedere in questa slide un esempio di un supermercato che siamo abituati a vedere, pieno di tanta bella frutta, di tanta bellissima verdura. Però se l'ape dovesse scomparire questa sarebbe la situazione, molta frutta, molta verdura che siamo abituati a consumare sparirebbe dagli scaffali dei nostri supermercati, questo perché l'ape è responsabile direttamente o indirettamente della produzione di circa l'80% delle specie vegetali, sto litigando col pointer, delle specie vegetali che siamo abituati a consumare. Questo genera a livello mondiale un fatturato molto importante di circa 153 miliardi di dollari, che è una cifra che io riesco soltanto a immaginare molto molto lontanamente. E questo ci apre un po' la mente sul fatto che l'ape va molto al di là di quello che è l'insetto che siamo abituati a considerare come produttore di miele. Ma è responsabile di un qualcosa di molto vicino alla nostra normale esistenza. Abbiamo capito che le api sono in declino, di conseguenza possiamo vedere anche in lontananza, se allunghiamo un pochettino il nostro sguardo, le difficoltà che potremo affrontare qualora dovesse scomparire. Di cui l'interesse sia della comunità scientifica ma anche di chi come noi si occupa di attività nell'ambito AST, di fornire un qualcosa che permetta all'apicoltore di svolgere la sua attività preservando questo importante patrimonio. Come possiamo aiutare quindi le api? Cosa possiamo fare? Le api sono state soggette nell'ultimo periodo da diverse malattie, da diversi parassiti, uno tra i tanti, giusto per nominarlo, la varroa, che ne hanno decimato la popolazione. Però le api sono anche molto sensibili all'ambiente in cui vivono, in particolare sono messe in difficoltà da delle attività collaterali che svolge l'uomo, quindi attività nell'ambito agricolo, produzione quindi di frutta e verdura, attraverso l'utilizzo di pesticidi e attraverso l'utilizzo di tecniche agricole come la monocoltura, sono soggette all'inquinamento che noi facciamo normalmente all'interno della nostra attività quotidiana con l'utilizzo dell'automobile, con le produzioni industriali e sono soggette a una grossa difficoltà a causa del cambiamento climatico. Quindi se mettiamo assieme questi tre fattori possiamo capire che l'ape è in seria difficoltà in realtà e è in difficoltà non per colpa sua ma principalmente per l'attività svolta dall'uomo. Monitorare cosa succede all'interno dell'apiario è un qualcosa che potrebbe aiutare gli apicoltori a svolgere meglio la loro attività perché anche loro si sentono in crisi in quello che fanno normalmente nella loro quotidianità. Le tecniche apistiche utilizzate in passato per svolgere l'attività dell'apicoltura non danno più i risultati che davano allora. E quindi cosa può essere utile all'apicoltore per capire che cosa succede? Se provate a pensare a voi, cosa può esservi utile quando siete in difficoltà con qualcosa per capire cosa potreste fare per cercare di mettere un rimedio? I dati, raccogliere i dati su quello che state facendo. Se state guidando male iniziate a guardare il cruscotto e vedete se è stato andato troppo veloce oppure il motore è troppo su di giri, devo cambiare. Quindi sto consultando in realtà dei dati che mi permettono di tarare quella che è la mia attività. Gli apicoltori li conosciamo bene o male, in realtà durante queste esperienze in Melixa li abbiamo conosciuti un pochettino meglio e quello che noi siamo riusciti a capire guardando l'attività degli apicoltori è che possiamo suddividerli in base a quanto è relativa la professione principale e la loro attività. Quindi abbiamo apicoltori dopo lavoristi, hobbysti, che in realtà svolgono un altro lavoro e fanno l'apicoltore tra virgolette a tempo perso per finalità di autoconsumo ma tengono molto però al proprio PR e tengono molto anche ai prodotti che fanno che solitamente utilizzano in famiglia oppure le vendono in piccoli mercatini o danno agli amici. Abbiamo poi gli apicoltori professionisti. Gli apicoltori professionisti hanno molte arnie, qui diciamo 50 più arnie, in realtà abbiamo apicoltori con mille, con quattromila, con cinquemila arnie e lì la musica cambia un attimo. Non è più un'attività che si svolge dopo lavoro, è un'attività vera e propria, è un'attività agricola che impiega non soltanto l'apicoltore ma tipicamente anche degli operai a supporto della propria attività e qui la cosa principale che vede l'apicoltore è la produzione di prodotti come il miele, come la cera, come la propole che poi andrà a vendere e genererà la redditività della propria azienda agricola. Ecco, tutti questi apicoltori che siano poi obbisti, che siano professionisti e ci mettiamo anche gli enti di ricerca che fanno apicoltura con lo scopo di capire che cosa sta succedendo all'interno delle attività delle api sono tutti interessati in ogni caso ad avere colonie sane per poter continuare la propria attività, a maggiorare quella che è la propria produzione di miele e di propoli di cera e a ridurre possibilmente i costi. L'obbista perché non vuole continuare a investire all'interno di questa attività ma vuole ricavarci un piccolo reddito, il professionista perché deve mantenere la propria azienda. Ecco, da qui nasce la prima idea di Medixa. In realtà, ve l'ho preso un po' da lontana per farvi capire da dove nascevamo da quali scopi erano quelli che perseguivamo all'interno della nostra azienda la prima idea di Medixa, che vedete rappresentata in questa immagine in un primissimo prototipo in legno fatto con notte di saldatura dei miei colleghi di Medixa con la quale noi ci siamo proposti di capire un po' meglio che cosa stava accadendo all'interno dell'alveare. Un primo sistema ecco di monitoraggio. Se vediamo meglio insomma uno zoom su quella che è la parte che abbiamo montato sull'arnia di questo sistema, se zoomiamo un attimo sulla fase, sulla fessura di ingresso vediamo che ci sono diverse api che entrano e escono da dei canali. Ecco, attraverso questi canali noi ci prefissiamo di contare quanti sono i voli che vengono svolti da parte delle api durante la giornata. Perché siamo interessati ai voli? Siamo interessati ai voli perché la problematica delle morie delle api è legata direttamente a quanta attività riescono a fare durante la giornata. Se noi riusciamo a misurare non possiamo contare le api. È un qualcosa che va oltre le capacità proprio umane di percezione anche di una macchina. Ci sono delle tecniche per andare a stimare il numero delle api all'interno di un'arnia ma comportano la visita all'api aria, l'apertura dell'arnia, l'estrazione dei favi che sono i telaini dove sono poi ospitate le api e il conteggio attraverso opportune tecniche. Non ha senso riuscire a fare questa cosa in maniera automatica. Quello che si può fare in maniera automatica è capire quanto stanno volando. È chiaro che se la popolazione delle api in una cassetta ci sono 50-60 mila api normalmente in una colonia di medio-alte dimensioni. Se riusciamo a contare il numero dei voli e vediamo che il numero dei voli rispetto alle condizioni di stagione metro eccetera ha una diminuzione possiamo iniziare a dire attenzione che l'arnia che stiamo monitorando può essere in una situazione di difficoltà perché sta riducendo la propria popolazione. Prendere in tempo la colonia e salvarla prima che arrivi a una riduzione importante oltre la metà della propria popolazione è fondamentale per riuscire a salvare la colonia. Da qui la necessità di sviluppare questo sistema, questo sistema è stato poi da noi brevettato è un contavoli quindi mi permette di sapere quanti voli sono stati effettuati durante la giornata e un po' l'idea base che sta dietro all'attività di Menixa. Qui vi faccio vedere un attimo qual è l'importanza dei dati in questo senso in uno dei primissimi grafici che avevamo sviluppato sulla base dei dati raccolti. Vediamo per esempio che in altro vado a rappresentare con una linea il fatto che ci sia o meno della pioggia, sulla seconda serie di grafici rappresento i voli, termini di entrate e uscite e sulla terza riga vado invece a rappresentare la variazione di peso. Sotto vedete tutte quelle scritte molto piccole sono la data e l'ora di acquisizione, questa è un'ora e mezza di acquisizione dei dati. Si vede all'interno di questo grafico ad esempio che durante l'attività di pioggia è normale che ci sia un calo nel numero di voli perché durante la pioggia le api non volano. Quindi se io noto questo all'interno del mio apiario è una situazione normale. Se ci fosse stato invece sole, un calo improvviso dei voli poteva voler dire un qualcosa, qualcosa che poi l'apicoltore sarebbe dovuto andare a verificare. Ecco, questo giusto per dare un'indicazione dell'importanza di quelli che sono i dati. Scusate. Questa invece è l'evoluzione diciamo della serie dei grafici che abbiamo all'intorno nel nostro sistema perché anche noi come tutte quante le aziende abbiamo fatto i nostri studi e ci siamo appoggiati agli apicoltori professionisti che si sono prestati a fare dell'attività con noi e abbiamo sviluppato delle grosse migliorie a quella che è la rappresentazione del dato nel nostro sistema. Ma perché vi sto andando a raccontare i dati? Perché i dati sono fondamentali per capire cosa c'è all'interno dell'apiario e la condivisione eventuale di questi dati potrebbe essere un qualcosa che dà un vantaggio anche per la cittadinanza. Melix è stata sviluppata a partire dal 2014 da questi signori con la collaborazione anche della fondazione Marca, in particolare del dottor Paolo Fontana che è il nostro entomologo di riferimento anche attualmente e con la collaborazione del dottor Luca Tollo come specialista di settore perché noi tutti quanti siamo ingegneri del settore dell'informazione. Durante la nostra attività siamo stati supportati da Trentino Sviluppo attraverso i fondi per lo sviluppo regionale e da Industria Ventures che ha creduto nella nostra attività e ci ha permesso di avere la forza necessaria per mettere assieme tutto quello che è il sistema di produzione industrializzata di quel prototipo in linea che abbiamo visto. Dopodiché all'interno della nostra società sono arrivate nuove forze sono arrivate nuove forze recentemente e in particolare siamo riusciti a coinvolgere il secondo produttore di miele a livello nazionale con il quale contiamo di riuscire a ampliare la nostra attività commerciale. Questa che è giusto per dare due notizie anche sul fatto che per fare queste cose non è necessaria soltanto una bella idea non è necessaria soltanto avere la competenza da un punto di vista tecnologico sono necessari anche capitali, anche importanti per permettere lo sviluppo di tutta quanta quella che è la parte elettronica e tutta quella che è la parte informatizzata nel nostro dispositivo. Quindi riassumendo sostanzialmente all'apicoltore che già fa apicoltura con le proprie arnie noi forniamo un sistema fatto di un hardware e di un software l'hardware si propone di raccogliere dei dati importanti per l'apicoltore il software permette la visualizzazione attraverso un applicativo web di quella che è lo stato del proprio apiario. Abbiamo lavorato duro su questa attività arrivando a questo nuovo prodotto che vi mostro qua in figura se vi ricordate prima era tutto di legno sviluppato diciamo alla buona in garage questa è una produzione che può essere sviluppata anche in serie che ha un'elettronica embedded con un firmware dedicato e depositato con un design brevettato, con un brevetto su tutto il sistema che quindi valorizza quella che è la nostra attività aziendale. L'hardware di che cosa è fatto? È fatto di una componentistica che viene applicata all'arnia c'è un'unità principale che è quella bianca con i due pannelli solari che permette la raccolta dei dati e la comunicazione via GSM in nostro sistema e c'è una parte inferiore invece che è composta da una bilancia, da un sensore pioggia un sensore di temperatura esterna e un sensore che chiaramente attraverso la bilancia misura il peso dell'arnia che diciamo è la cosa forse più importante per l'apicoltore professionista perché attraverso il peso riesco a capire se sta producendo bene oppure no. L'unità principale invece si preoccupa di raccogliere i dati della bilancia è alimentata da pannelli solari che ricaricano la batteria quindi è una soluzione del tutto autonoma e si presta ad essere installata in campo aperto attraverso il GPRS trasmette i dati con una sim che forniamo noi internazionale multioperatore al nostro cloud server assieme alla posizione del sistema al fatto che il sistema si sia mosso per effetto del vento per effetto di un selvatico dell'orso tanto per nominarne uno oppure di un cervo, di un cavallo che ha accidentalmente urtato l'arnia e un sensore di temperatura interna che serve per monitorare lo stato di salute della colonia durante soprattutto il periodo primaverile e invernale. Tutti questi dati come vi dicevo finiscono su un nostro server che si occupa poi della sua elaborazione e presentazione all'apicoltore quando ne ha disponibilità e desiderio di andare a verificare come sta proprio Piaria. Molti apicoltori fanno apicoltura nomade molti apicoltori trentini hanno le proprie arnie in Toscana, in Calabria, in Sicilia, in Sardegna nella pianura panana per fare le specie monoflora che sono molto più redditizie rispetto ai millefiori che il tradizionale e attraverso questo sistema possono andare a verificare questi apiari soprattutto se si trovano lontani dalla sede principale della propria azienda agricola. Vado velocemente su quello che è il discorso dei dati perché mi premeva guidarvi un attimo in questo. Quindi, riassumendo un attimo, abbiamo intenzione di mostrarvi il perché potrebbe essere interessante per il cittadino di Trento all'interno di questo intervento che è dedicato alla Smart City avere un supporto al monitoraggio delle api. Il titolo di intervento era appunto mettiamo le api in comune. E qua c'è un po' la chiave di volta di tutto quanto al discorso. Abbiamo una serie di apiari che possono essere distribuiti. Questi apiari attraverso il sistema Melixa comunicano i propri dati a un server centralizzato che è nostro e poi questi dati vengono processati, elaborati e forniti all'apicoltore. Cosa succederebbe se in questo processo inserissimo la possibilità di condividere questi dati con la comunità? La comunità degli apicoltori della zona? Oppure la comunità degli amici apicoltori che fanno apicoltura nomade in una determinata zona del nostro paese? Oppure cosa succederebbe se invece che avere gli apiari all'interno di una zona in campo aperto avessimo degli apiari situati in città? Magari in zone di parchi urbani, che comunque dove le api sono utili, dove le api sono sparite, dove le api sono necessarie perché altrimenti dobbiamo rinnovare continuamente i parchi, perché non si sono più le fecondazioni dei vari fiori, dei vari semi, delle produzioni all'interno della città. Lì potrebbe essere interessante, e è quello che voglio raccontarvi qui. L'APE come bioindicatore è un qualcosa che è strettamente legato a questo discorso. Perché? Perché l'APE diciamo che svolge un'importante attività di filtraggio dalla raccolta del polline, del nettere, fino all'apiario. In particolare quando raccoglie nettere e poi ripropone come miele all'interno delle celle, durante il viaggio fa un lavoro di, tra virgolette, di gestione, con il quale va a purificare il miele. Quindi il prodotto dell'APE che viene depositato all'interno della celletta è un qualcosa di tendenzialmente pulito. Tutto quello che viene filtrato da parte dell'APE viene trattenuto da essa e viene riproposto all'interno della cera e della propole o comunque rimane nel corpo dell'APE. Quindi sostanzialmente possiamo vedere l'APE come un filtro, un ricettore distribuito. 60.000 APE che si muovono su un territorio vanno a toccare qualsiasi fiore, qualsiasi pozzanghera, qualsiasi zona che si trova in un raggio molto ampio e quindi possono essere sfruttate come bioindicatore. Non sono certo io a raccontare questa storia è che si occupa di entomologia che ci ha insegnato questa importante caratteristica dell'APE. è possibile andare a verificare cosa sta succedendo nell'ambiente e quindi osservando quello che fanno le API attraverso quindi delle analisi chimiche che non fa Melixa. Le analisi chimiche si fanno in laboratorio e sono costose e attraverso una misura puntuale di quello che è il tasso di mortalità dell'APE. E questa è un'attività che Melixa può svolgere. Inoltre le API sono facili da allevare. Spesso ci sono persone che andando in pensione oppure avendo del tempo a disposizione decidono di partire con un'attività di apicoltura. È necessario fare un corso, è necessario essere informati perché comunque sono un animale vivo, però non è difficile da allevare. Ha un ampio raggio di volo, si muove in qualsiasi zona e noi non possiamo neanche pensare di fare un rilevamento distribuito come quello che fa l'APE. È molto sensibile, basta piccole concentrazioni di inquinanti oppure di veleni, tra virgolette, per creare delle problematiche sull'APE. È veloce nel rigenerarsi, cioè se noi perdiamo per difficoltà una colonia è possibile attraverso operazioni di apicoltura riuscire a ricreare la famiglia e a ripartire con la nostra attività. è capace di immagazzinare notevoli quantità di informazioni sull'ambiente all'interno del quale va a operare. Questi sono i nostri sistemi che abbiamo distribuito in Trentino. È un progetto che abbiamo svolto con la collaborazione dell'Associazione Apicoltori Trentine, alle quali abbiamo dato prima incomodato e poi ci hanno acquistato un certo numero di sistemi. Durante questa attività abbiamo potuto distribuire sul territorio della nostra regione diverse stazioni di monitoraggio Melixa collegate agli apiari condotti dagli apicoltori delle varie associazioni con i quali abbiamo sviluppato un'attività di collaborazione reciproca. noi eravamo nella fase di fine della produzione dell'ingegnerizzazione del nostro sistema avevamo desiderio di verificare su campo la funzionalità del nostro sistema e avere un feedback da chi fa apicoltura in maniera tradizionale. gli apicoltori avevano desiderio di andare a trovare questi sistemi innovativi tra virgoletti 2.0, 3.0, 4.0, chiamiamoli come vogliamo che permettono di fare un'apicoltura attraverso l'utilizzo anche dei nuovi media. e queste sono alcune stazioni di monitoraggio ne abbiamo una anche ad esempio al Museo dell'Ape di Croviana che viene utilizzata anche per scopi divulgativi e didattici ne abbiamo distribuite un po' su tutto il territorio del Trentino le abbiamo agli istituti di ricerca dell'Alto Adige vedete questo, lo indico qua direttamente questa immagine, viene proposta esattamente la situazione di monitoraggio fatto per ricerca dove non si usa solo un sistema Melixa ma molti sistemi posizionati su ciascuna arnia. Attraverso questa prima, diciamo, esperienza fatta con gli apicoltori ci si è accesa un attimo una nuova idea ci è venuta una nuova idea e abbiamo voluto provare a guardare un pochettino più lontano e valutare cosa sarebbe se perché? perché come facciamo un monitoraggio distribuito su una regione potremmo pensare di farlo anche in una zona un pochettino, tra virgolette, più critica magari limitarlo a una regione del nostro a una parte del nostro Trentino dove potrebbero essersi teoricamente delle difficoltà da un punto di vista dell'inquinamento ambientale concentrandoci su una zona o concentrandoci inizialmente anche sulla nostra città e da qui il pensare al discorso delle app in comune dove veramente in questo caso vado a fare un attimo di visione su quello che potrebbe essere il monitoraggio attraverso il sistema Melixa di vista dello stato di salute e dello stato dell'ambiente all'interno della nostra città questa potrebbe essere una prima situazione dove vado a posizionare idealmente ma anche fisicamente si potrebbe fare senza grossi problemi delle arnie all'interno del nostro comune e attraverso di esse raccolgo dei dati importanti sullo stato di salute delle varie zone della nostra città attraverso l'analisi dei dati del sistema Melixa in prima battuta e dove ci sono difficoltà quindi vado a limitare i costi anche di quelle che sono le analisi vere e proprie chimiche sui prodotti dell'alveare vado a capire che cosa sta succedendo non siamo i soli chiaramente non è un'idea mia quella di mettere le app in città molti si stanno adoperando in questo senso e lo stanno facendo in grosse città europee lo stanno facendo a Berlino, a Londra, a Parigi, a New York, a Copenaghen, a Tokyo, a Torino per citarne una italiana pensate che a Berlino ci sono più di 15.000 alveari posizionati all'interno della città perché le api a dispetto di quello che si possa pensare sono sempre con le dovute cautele un animale docile non sono un animale che non va d'accordo con la normale attività dell'uomo se ricordiamo chi ha una quarantina d'anni come me ne ho 39 una quarantina d'anni come me quando eravamo più giovani all'interno dei paesi era normale che ci fosse qualche arnia posizionata magari nella soffitta oppure in un piccolo maso molto vicino ai centri abitati oppure all'interno dei centri abitati il convento del padre Cappuccini di Terzo Lasso aveva una quarantina di arnie disposte nella zona di accoglienza dove c'era un hotel, in tutto e per tutto una casa di accoglienza dove c'erano molti bambini e non ci sono mai verificati incidenti per questo motivo perché le api fanno la loro attività, l'uomo fa la sua finché i due non iniziano a litigare tipicamente non succede nulla Gli apicoltori umani, per tornare al nostro discorso vi parlo velocemente di quello che sono le esperienze degli apicoltori urbani di Torino queste slide sono fatte con la collaborazione proprio dell'associazione apicoltori urbani di Torino in particolare di Cortese che ha fatto la gentilezza di concederci l'utilizzo del suo materiale è una tradizione quella di Torino, centenaria, si parla di apicoltura urbana dall'inizio del Novecento all'inizio del Novecento già si stava iniziando a posizionare delle arnie all'interno della città perché si faceva un miele buono pensate a quante migliaia di tigli, di ipocastani, di bagolari abbiamo qua a Trento si può fare un bellissimo miele di millefiori di montagna senza grossissimi problemi quindi è un'associazione che nasce molto presto all'inizio del Novecento nel 2016 diventa Urbis che è un'associazione con la quale abbiamo collaborato e che hanno anche dei nostri sistemi dal 2000 e fine del 2016 Urbis si trasforma in apicoltura urbana di Torino il cui scopo è quello di fare apicoltura urbana con scopi di didattica perché insegnare a un bambino come funziona un alveare, come si comportano le api è un'attività molto educativa e interessante si occupa di studio di biodiversità vegetale nelle città, si occupa di monitoraggio ambientale questa è la situazione di alcuni esempi di arnie posizionate nella città di Torino qualcuna sulla collina, qualcuna molto vicina alla città, alcuna nei parchi urbani vedete per esempio la nostra arnia dotata del sistema Melix Torino non è chiaramente l'unico a fare questo, abbiamo anche Bolzano Bolzano ha recentemente costituito un'associazione di apicoltori urbani con scopo di bio monitoraggio ambientale qui vedete per esempio l'apiario che si trova in un istituto nella zona di Bolzano che è stato visitato anche durante un convegno dedicato all'apicoltura urbana di cui è stata protagonista l'università di Bolzano e in particolare il professor Angeli con cui abbiamo anche come Melix una notevole collaborazione. Quindi l'apicoltura urbana è un qualcosa che può far bene può far bene alla cittadinanza sia in termini didattici che in termini di possibilità di fare biomonitoraggio attraverso un sistema molto semplice. Monitoraggio che non è un monitoraggio come quello delle centraline dell'APPA è un monitoraggio distribuito, è un monitoraggio che va a pescare in una zona molto ampia attraverso dei sensori che possono essere molto importanti da un punto di vista della rilevazione gli inquinanti anche in zone molto eterogenee. Attraverso il monitoraggio si riesce a stimolare quella che è la biodiversità dell'ambiente perché anche i nostri giardini urbani, anche le nostre piante urbane e ornamentali hanno bisogno dell'impollinazione per poter continuare la propria attività normalmente e migliora quello che è il nostro benessere. In questo senso Melix viene utile perché permette una raccolta dei dati una raccolta che viene fatta attraverso moderni strumenti ICT attraverso il cloud computing, attraverso l'analisi dei dati con delle web application che consentono l'accesso molto veloce e rapido ai dati che sono di interesse e quindi rappresentano una grande opportunità anche per la nostra città. La seconda parte, e poi qui chiudo, l'intervento è dedicato a mettere le app in comune inteso come dare i propri dati. Se andate da qualsiasi agricoltore e gli chiedete mi dici cosa hai fatto l'anno scorso, o un agricoltore della Valinona, anche uguale, non ti dirà mai la verità, non ti dirà mai esattamente come sono andate le cose. Però se capisco che attraverso questo comportamento riesco a migliorare quello che è il benessere della mia comunità, della mia associazione di riferimento, magari uno spiraglio in questa direzione si può aprire. E questo è quello che è successo alla federazione dell'Associazione Apicoltori del Trentino che attraverso l'analisi dei dati di alcuni dei nostri sistemi, in particolare qui vediamo un estratto del loro bollettino a cura del dottor Romano Nessler, ha dato la possibilità di condividere delle situazioni e delle esperienze per un miglioramento globale di quella che è l'attività dell'Associazione. E quindi il monitoraggio distribuito efficace che in questo caso si svolge su un territorio molto ampio consente una raccolta di informazioni per tutti gli associati, i dati sono riutilizzabili e disponibili attraverso il sistema Melixa che genera quindi un'importante opportunità di scambio, di condivisione delle proprie esperienze all'interno dell'Associazione. E qui viene un attimo un'idea ancora più di lunga portata, che è quello che noi chiamiamo progetto di filiera. Cosa succede se attraverso il sistema Melixa oltre a fare monitoraggio io cerco di definire delle best practice, ovvero dei comportamenti che possano migliorare l'attività dell'apicoltore. Attraverso la definizione delle best practice è possibile andare a capire se l'apicoltore si sta comportando o meno nel rispetto di un determinato protocollo ad esempio. E questo è il progetto che stiamo cercando di iniziare con il supporto di apicoltura piana che potrebbe fare da testbed per questa iniziativa in un progetto molto ampio di definizione di una certificazione del miele in termini di provenienza e in termini di qualità. perché se rispetta i parametri definiti all'interno di un determinato protocollo è possibile riuscire a capire se il miele che sto consumando, anch'io come consumatore, è stato raccolto effettivamente in quella zona, è stato effettivamente prodotto secondo le migliori pratiche di apicoltura e quindi a tutela anche del consumatore. questa è un'opportunità che mette assieme ricerca e mercato, mercato perché chi produce miele è interessato ad avere il vasetto di miele certificato che ha un valore più alto chiaramente nei confronti del consumatore del mielefiori di provenienza mista italiana e estera che troviamo normalmente nei nostri supermercati. è un'opportunità di ricerca perché attraverso lo studio dei dati possono emergere delle importanti situazioni che in questo momento possiamo soltanto vedere da lontano e proprio per questo stiamo cercando anche degli sponsor perché è un'iniziativa a coinvestimento da parte sia nostra ma anche di necessità di capitali esterni. Per concludere quindi, e vengo che mi stanno facendo segno che sto finendo, io come cittadino di Trento cosa posso fare domani mattina per riuscire a portare avanti questo progetto di migliorare la qualità della vita e del benessere delle api. Intanto posso pensare di avere dei comportamenti virtuosi, io ho raffigurato dei vasetti di miele con delle ciminiere, perché tutto quello che faccio va a finire in quello che consumo. Pensate che di miele ne consumate un cucchiaino al mattino magari o un cucchiaino alla sera nella tisana, ma quanti ortaggi mangiate e quanta frutta mangiate? Questa frutta è veramente tutta quanta sana, è libera da pesticidi, è libera da inquinamento? Se sono amico delle api posso fare anche una cosa semplice, io non voglio mettermi a fare l'apicoltore perché ho paura, però posso piantare dei fiori, posso piantare dei fiori sui miei balconi, all'interno dei miei giardini, posso piantare dei fiori all'interno delle aiuole del comune, comune permettendo, perché le api sono attirate chiaramente dai fiori e quindi se si trovano in un ambiente dove trovano da mangiare stanno meglio. Se sono ancora più evoluto, tra virgolette, e voglio davvero da bene alle api, posso trasformare parte del mio tempo libro in attività di apicoltura, perché l'attività di apicoltura non è un'attività difficilissima, posso produrre il mio miele e posso fare un qualcosa di utile anche per l'ambiente. Chiaramente tutto questo, se diventate apicoltori professionisti e volete partecipare anche ai progetti di condivisione dei dati raccolti attraverso i vostri apiari, attraverso il sistema Medixa avete un qualcosa che vi può aiutare. Grazie a tutti, questi sono i nostri dati, i nostri contatti, siamo a Trento in via Cufstein 5, Medixa è un prodotto interamente made in Italy attraverso l'utilizzo di terzisti situati sul comune di Trento, nella zona del Trentino Alto Adige, e quindi è un prodotto interamente prodotto all'interno della nostra zona. Grazie a tutti ancora per l'attenzione e se ci sono domande io sono qua. Qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Andrea? Allora lo congediamo, non prima di avergli consegnato la nostra stampa. Grazie. Grazie a te Andrea Rosani di Melixa SRL, mettiamo le api in comune. Adesso lasciamo la sala allo speech and tech che già sta partendo dall'altra parte e coprirà anche la sala 2. e ricordo a chi è in sala chi sta per entrare il dettame sulla sicurezza, occhio agli zaini e occhio a qualsiasi borsa da non lasciare in custodita perché sennò diventa complicato sul piano della sicurezza e il secondo appunto che dobbiamo farvi, che vogliamo farvi come organizzazione e sulle iniziative di partecipazione invece della Trento Smart City Week allo stand, quello in legno, quello verso Piazza Pasi di FBK. Ci sono due iniziative molto interessanti, la prima è Climb, un viaggio collettivo e sostenibile di oltre 10.000 km da Trento a Vuxi in Cina per stimolare sulla mobilità sostenibile, si può partecipare percorrendo chilometri sostenibili ovviamente in maniera virtuale, non camminiamo fino alla Cina ma lo facciamo per le strade di Trento, durante i nostri spostamenti quotidiani o durante degli eventi organizzati dalla Smart City Week attraverso i quali maciniamo chilometri virtuali per arrivare fino in Cina. La seconda iniziativa Tag Cloud Voce ai Cittadini permette invece a tutti i partecipanti della Smart City Week di segnalare e di dire quella che è la parola più significativa di questo evento, verrà creata una nuvola di concetti capace di riassumere quindi le principali parole che vengono proprio dal pubblico che seguirà i nostri incontri. Lascio la sala e la parola e il palco agli amici di Spiciantè.